Anche se non è semplice, ci stiamo allenando forte, ci stiamo allenando bene, ci manca sicuramente qualcosa che è importante per noi come il campo, la partita, perché anche a livello numerico non arriviamo a riuscire a fare una partita. C'è dispiacere perché è normale, speri sempre che alcune situazioni non capitano mai a te, però ci sono delle scelte che la società, l'allenatore deve fare a discapito di qualcuno, questa volta è capitata a noi, speriamo che comunque quando si chiude una porta si apra un portone. Sì, quando ho parlato con il mio procuratore ho subito detto che vista la situazione, se capitava l'occasione di fare un'esperienza all'estero io l'avrei colta al volo, perché comunque come ho detto prima, magari in queste situazioni ti trovi a dover provare cose che non hai provato fino adesso. Io vengo da due campionati vinti, quindi diciamo che qua il mio percorso è stato fatto e se si dovesse presentare un'occasione per fare anche un'esperienza calcistica diversa o di vita, io e mia moglie con me la accoglieremo al volo. Ma il più serio possibile perché a 31 anni non posso accettare proposte ambigue o con punti di domanda, quindi una società seria con discrete ambizioni, abbiamo scritto la storia quindi avrò il piacere di essere ricordato negli anni qua a Benevento e mi porterò questa soddisfazione come sempre.